Otto giornate alla conclusione del campionato. In eccellenza si entra nella fase decisiva per stabilire chi prenderà parte ai play-off e chi invece sarà costretto a retrocedere o a giocarsi la permanenza nei play-out. E quella di domani pare essere una giornata fondamentale per la testa, visto che il turno si aprirà domattina con la super sfida tra le due attuali regine del campionato, ovvero Manfredonia e Bisceglie, che si sfideranno alle ore 11. I Sipontini cercano tre punti che potrebbero consentire, vista anche la gara da recuperare col Foggia Incedit, di prendere definitivamente il largo. Il programma proseguirà poi alle 15 con tutte le altre sfide. Il Foggia Incedit ospiterà la FIGICIL Corato, derby tra Orta Nova e San Marco Inlamis, trasferta sul campo del Real City per il Sansevero, a completare il quadro del diciannovesimo turno, le gare tra Canosa e Polimnia, quella tra Unione Calcio Bisceglie e Mola ed infine la sfida che vedrà opposti Vigor Trani e Borgo Rosso Molfetta.